Ciao a tutti i videomatori e tutte le videomatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo a parlare di auto elettriche e di come sul lungo termine tutto il marketing aziendale che ci è stato venduto assieme alle auto elettriche sta crollando sotto tutti gli aspetti. Innanzitutto ci tengo a dirvi che questo non è un video promozionale per le vetture termiche non è neanche un video che vuole attaccare le vetture elettriche. Non ce l'ho né con una né con l'altra categoria non voglio fare apparire una meglio dell'altra sto cercando solamente di valutare senza soccombere al marketing aziendale tutto quello che c'è stato detto a proposito dell'auto elettriche e di come nel tempo si è rivelato una immensa bufala. Fake news, bullshit. Se volete vedere, se vi piace ascoltare, se siete degli affessionados all'auto elettrica se volete solo sentire una campana questo non è il video che fa per voi vi sono decine, centinaia di influencer di tutte le altezze più o meno intellettuali che la promuovono gente che viene pagata per andare in Svezia a provarle e fare finta che va tutto bene gente che viene pagata per restare in Italia a provarle e fare finta che tutto è magnifico uno dei miti da sfatare, una delle più grandi balle che ci vengono raccontate è che l'auto elettrica costa meno dell'auto termica partendo dal prezzo di acquisto che è nettamente superiore in alcuni casi più del doppio, in alcuni casi più del triplo di un'auto a pari livello l'auto elettrica ci dicono ha dei costi di gestione bassissimi non ha bisogno di manutenzione e l'utilizzo in sé per sé è molto ma meno costoso vi risparmiate tanti soldi beh se guardiamo già i prezzi delle ricariche da 5 anni a questa parte sono praticamente raddoppiati e a proposito di questo l'ente più grande che si occupa della distribuzione dell'energia in Francia ha detto chiaramente che già per questa estate i prezzi dell'energia durante la fase notturna che va da luna di notte alle 7 del mattino aumenteranno di 5 volte proprio per impedire a chi carica l'auto elettrica di notte di farlo a basso costo e di fatto attaccando anche quelli che ci fanno la lavatrice di notte come abbiamo già visto stanno finendo gli aiuti per la vendita delle auto elettriche il marketing aziendale che è attuato dai governi sponsorizzando l'auto elettrica come se fosse la soluzione a tutti i problemi quando in realtà non lo è per nulla ma questi aiuti stanno finendo la prima che ha chiuso il rubinetto è stata la Germania e quello che si è visto è che le persone se non si aiuta a livello economico la vendita quindi se non risulta conveniente comprare un'auto elettrica quello che scelgono le persone sono i motori termici la vendita delle auto elettriche in Germania è crollata a picco ed è crollata in tutti i paesi che sostanzialmente hanno smesso di sovvenzionarle come vi ho detto tante volte se una cosa è sovvenzionata dallo Stato è perché è invendibile non si vende, non funziona per venderla c'è bisogno di una sovvenzione statale pensate che la Francia dà 6.000 euro di sovvenzione sull'acquisto di ogni auto elettrica abbassando così di 6.000 euro il prezzo alla vendita una cifra enorme allo stesso tempo, nello stesso periodo, anzi pochi giorni fa il capo della produzione globale di veicoli Renault niente po' di meno che il capo ha invitato i produttori a promuovere piccole auto a benzina e diesel a prezzi accessibili piuttosto che i veicoli elettrici costosi e pesanti che ha descritto come una sciocchezza ambientale ma uno dei problemi è proprio il peso il peso delle auto elettriche che è per la più parte dei casi più del 50% rispetto a un'auto di pari modello ma termica influisce su tanti fattori il primo fattore è sull'inquinamento infatti ci hanno detto, ci hanno raccontato la storiellina che le auto elettriche sono meno inquinanti anche nell'utilizzo a parte che la produzione non inquina sul posto ma inquina lontano ma inquina lo stesso anzi di più che per produrre un'auto termica perché c'è tutto il pacco batterie ma anche tralasciando questo fattore che non andrebbe per nulla tralasciato il peso in sé per sé inquina perché inquina? perché i pneumatici hanno una durata molto ma molto inferiore e le polveri che emettono i pneumatici sono molto ma molto inquinanti fanno parte di quel tipo di polveri che tutti conosciamo e che tutti sappiamo quali problemi danno ma non solo il peso influisce anche su un altro fattore sul fattore dell'energia sappiamo tutti che l'energia è la velocità per la massa e quando succede un incidente le auto elettriche subiscono dei danni molto ma molto superiori proprio dovuti al loro peso e questo incide su diversi fattori il primo è anche quello ovvio sulle riparazioni i danni sono molto maggiori e le riparazioni oltre ad essere quasi impossibili in molti casi infatti è difficilissimo trovare persone che abbiano le qualifiche per riparare in maniera congruente in maniera effettiva un'auto elettrica ma il loro costo in sé per sé è già del 30-50% superiore per gli stessi pezzi lo stesso tipo di riparazione su un'auto termica costa dal 30 al 50% in meno e questo influisce sui costi delle assicurazioni infatti sono in moltissimi già da questi mesi già da questo periodo le assicurazioni che decidono di aumentare il costo delle polizze per le auto elettriche proprio per questo fattore il fattore del costo di riparazione sempre che ci si riesca e basta unire un po' i puntini per capire che l'auto elettrica in verità sembra essere un'auto sempre di più usa e getta impossibile da riparare in caso di incidente e con dei costi elevatissimi quando il suo motore è esausto e il pacco batterie è da cambiare la favoletta che faceva parte del marketing aziendale anche ad esempio per Tesla era quella che Tesla non aveva bisogno di concessionari perché sostanzialmente non aveva bisogno di manutenzione nel lungo termine però ci si è accorti che non è effettivamente così ma che Tesla come tutte le altre ha bisogno di manutenzione non come le vetture termiche questo è vero ma quando poi ha bisogno di una manutenzione vera quindi ad esempio sostituire il motore che ha una durata inferiore a un motore termico o sostituire il pacco batterie qui la faccenda si fa estremamente complicata primo per trovare le persone che sono in grado di fare tutto ciò e sono pochissime quindi quello che quindi la condanna della Tesla è essere un'auto usa e getta ma anche nel caso in cui ad esempio qualcuno trovi personale adeguato personale formato per fare questo tipo di riparazione i costi sono esorbitanti i costi arrivano a essere il 50% o più del valore dell'auto avendo così un effetto deleterio sul valore delle auto usate abbiamo già alcune notizie di alcune assicurazioni che rifiutano le auto elettriche non vogliono assicurare le auto elettriche altre che invece fanno polisse speciali proprio per le auto elettriche e anche qui va aperta una parentesi in Francia e so anche in altri paesi lo Stato detassa le assicurazioni delle auto elettriche cosa vuol dire un'assicurazione per un'auto termica paga delle tasse viene tassata quella delle auto elettriche per adesso no ma il suo destino è quello di essere tassata fra qualche anno finiranno le sonvenzioni così come finiranno per la vendita finiranno le sonvenzioni per le assicurazioni tutto questo circo tutto questo marketing industriale è destinato a finire e quando finirà il costo perché sono destinati ad essere molto più cari delle auto termiche per non parlare del problema degli incendi c'è di molti che mi avete scritto anche mail e anche molti commenti per sottolineare la difficoltà enorme che c'è per riuscire a fermare l'incendio delle auto elettriche notizia proprio di pochi giorni fa in francia di una persona che è rimasta incastrata all'interno delle auto elettriche che purtroppo per lei è bruciata all'interno della propria vettura perché non era in grado di uscire e perché i pompieri nonostante siano arrivati con tre camion non sono stati in grado di fermare l'incendio in tempo c'è un articolo che potete trovarlo benissimo in lingua italiana che riguarda i pompieri in svizzera che descrive alla perfezione tutte le problematiche e le quantità enormi gigantesche di acqua necessarie per spegnere anche solo una vettura elettrica viene preso Tesla perché è tra le più vendute in svizzera come auto elettrica e come c'è la pressoché impossibilità di spegnere in maniera definitiva e veloce un incendio quando riguarda questo genere di vetture prima di chiudere vi dico già che in molti mi chiedete le fonti di tanti articoli che leggo di tanti dati che vi porto in verità le fonti le potete trovare benissimo anche da voi sono tutte ben raggiungibili alcuni sono in lingua francese alcuni sono in lingua inglese altri sono in lingua italiana il perché non le metto direttamente nel sottopancia è che molto spesso questi video qui poi vengono copiati a raffica da un insieme da una serie di canali che trattano più o meno le stesse tematiche ma che mai e poi mai mi menzionano come fonte originale vi ringrazio a tutti per aver seguito questo video fino in fondo vi invito come sempre a mettere un pollicione in su a condividerlo nei vostri social e iscrivervi al canale alla prossima e iscrivervi